Bello ragazzi impegnati Costanto metterà di indio Bello fra proprio così si dice Tranquillo Quinta partita di campionato per Elis E la seconda per Elis Lui video si sfidano Il solito timer di 10 minuti a tutto il minuto Fino al primo tempo E niente senza perdere tempo Iniziamo forza Iniziamo Le mani dritte Spinci verso lì Goal goal 3 2 1 Elvis a Casali Garay Yoshi Iniziamo Bellissimo Subito 1-0 Cristian proprio ripartita Chiede Elvis Bellissimo La figura qui La maglia del Barcelona di Messi Cristian Elis Tende la palla Cristian La chiude Elis 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 In fondo Mi stiamo Spostano la porta Spostano la porta Spostano la porta Bravo 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 La mani di Elis Che sarebbe Neanche dopo 20 secondi Il gioco di la sera Elvis Elvis Elis Mori Puoi partire qui San subito Elvis Allora ancora fuori Torna in porta Vinta La forza destro fuori Il nostro Accetto la gava di Elis La tocca E rimetta Ci troviamo sul Ancora sul secondo minuto e mezzo Cristian Ho portato a posto 1-1 1-1 1-1 E' qui E' qui Elis adesso Vediamo che reagirà Dove possiamo dire Possesso Costante Costante Qua io avrei visto in contatto Cristian Però lascia giocare Cristian Chi è Elis? Cristian Non è dentro La stava è un gioco Cristian fuori Balla Vinta 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 Elis Especiale Casani Alla numero 10 Elis 2-1 Fine primo tempo C'è la fine No 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 che fine no Comunque Via Inizio secondo tempo E' lei guarda Possesso di Cristian Perché E' sotto Cristian La pareggia Per la seconda volta Elis Trova sotto Avere partecipato al pallone d'oro Dove essere uscita alle semifinari Per 5-4 conto di mano i govori Elastico Elbis Nooo Sbaglio Non doi Il bravo No Sbaglio 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 Adesso stacca Cristian Resta Resta Contatto Tutto regolare Primo Vittorio Resta Mistro Si sfondo Firmare sul 2-2 Che partita signori Occasiona sia da una parte che dall'altra Cristian 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 non fai mi scelta Fammi entrare Cristian E' edizio Mi confondo sempre Gocci Gocci E' coraggio Vagli stai Sbaglio 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 Chi è E' 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 Sbaglio 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 E' 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 Vabbè Pallone di Elvis E' E' un class Pallone di Elvis Gioca Pallone di Elvis Gioca Pallone di Elvis Ciò Pallone di Elvis E' Pallone di Elvis Fuori Fuori E' il pallone di Elvis Dalla tua area tecnica Vada dalla tua area tecnica Vada dalla tua area tecnica Gocci è in su Cristian Vincenzo è stato cacciato What's up? Sinistro Chi deve essere Andava una brutta E' vista ultimo minuto? ultimo minuto è 30 secondi perchè sennò quello non si taggisce non ti offro io 2 fuori oh cazzo guarda per lì attenzione è vista Cristian oh è vista? perché leggo? molti adesso riparte Cristian mi faccio il più tardo mia ora c'è fuori adesso possiamo fare ultima azione è bello cosi è il coach ho detto 1 minuto e 30 secondi devi salire zitto coach Cristian Cristian 3-3 non volevi l'ultima azione ti hai rotto il cazzo di fare il cassino attenzione Elvis ho detto che Cristian non voleva l'ultima azione adesso Elvis 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 è stato un conto 30 secondi è finito no non volevo l'ultima azione ma 10 secondi 15 secondi 15 secondi 15 secondi ma possiamo prendere Elvis guarda qua eh capì ma non la volevi? eh ma non la volevi? contatto ci vuole? ci vuole? ah ah fuori finita eh Elvis chi vuoi? Elvis non riesce a portarsi alla casa per l'ultimo gol finale di Cristian che ti dice 3-3 e niente volete dire qualcosa? che cazzo che schifo vuoi dire qualcosa? coach diciamo che dovrebbe calmarsi un po' cioè è tutto rosso si leva la maglia io ho visto prima a bocchino va bene Elvis tu c'è qualcosa da dire? no perfetto oh grazie quindi adesso Elvis si trova a due partite eh gli manca solo una partita si trova a quattro punti perché una vittoria e un pareggio Cristian si trova a cinque partite e finisce il suo qui il suo campionato d'andata e sette punti perché ha fatto due vittorie e un pareggio e niente noi ci brecchiamo in un prossimo video e why you? ciao ciao ciao